Scusa Domenica sera alle nove, per la polenta e il capriolo si fa questo e altro, no? Ciao Ciao signorina Mimmo, tra poco sarà un giorno in rosso Lo so, sì Tu quando potresti? Un mercoledì avrai la piscina Un mercoledì mi hanno incastrato in ufficio, sarà casa tardi Tardi quanto? Sono 50 euro le prime quattro ore Dimmi chi è, dimmi chi è Non è nessuna cazzo Come mai non mi hai chiamata? Stavi lavorando Vorrei averti incontratta prima Adesso è troppo tardi Papà, papà Vuoi riconoscere mia moglie o ti diverti a carmi i problemi, dillo Oh, forza, smettetela Se tu dovessi vedere Bianca con un altro, me lo dici subito? Ci siamo solo fatti delle gran belle scopate Ma perché tu non lo vorresti sapere? Fermi, si può sapere cos'hai? Domani torniamo, io vado a casa mia, tu da tua moglie Ma perché? Tu sei pronta a lasciare il tuo compagno andartelo? Hai già deciso tutto tu Pensavo che saremo stati in due a decidere Ciao! 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 Grazie a tutti.